Ancora guai per Giancarlo Capobianco, presunto boss della SCU, detenuto nel carcere di Lecce, condannato in primo grado per reati associativi, ma colpito nella mattinata da un nuovo provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Brindisi e operato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia della Città degli Imperiali. I sigilli, dopo il maxi sequestro della scorsa settimana, sono stati apposti ad un appartamento sito al terzo piano di una palazzina con box annesso di proprietà dello IACP. La Casa Popolare, sita nella zona 167 di Francavilla, risulterebbe essere abitata da Capobianco e Famiglia dal 1998, per quanto nessuno dei componenti risulti, paradossalmente, inserito nella graduatoria apposita che regola l'assegnazione degli appartamenti dell'Istituto Case Popolari. Eppure è lì che Capobianco e Famiglia avrebbero vissuto per 15 anni ed è lì che la moglie di Zio Carlone si trovava in mattinata all'arrivo dei militari. Tra l'altro anche il nome sul campanello, Combacia, con quello marchiato sul provvedimento di sequestro. I locali sono stati quindi sgomberati e i familiari di Capobianco hanno portato via solo i beni reperibili. Si tratta dell'ultima batosta piombata sulla testa del presunto bosso che, in attesa dell'appello fissato per il prossimo mese, nelle ultime settimane si è ritrovato al centro di tre diversi provvedimenti. Il primo, lo scorso 5 ottobre, quando Zio Carlone, incastrato prima che dei raffronti effettuati dai carabinieri e dalla DIA di Lecce e dalle dichiarazioni dei pentiti, fu arrestato insieme ad altri quattro con l'accusa di acquisto, detenzione e porto d'armi da guerra. Per conto della SCU, armi comprate, secondo l'accusa, proprio da Capobianco nel settembre del 2010. Poi, la scorsa settimana, il sequestro di appartamenti, ville, terreni e automobili intestati a prestanome, ma riconducibili, secondo la DIA, proprio all'imprenditore. Ora, il sequestro è lo sgombero di una casa popolare, ultimo baluardo per un'intera famiglia completamente spogliata delle sue proprietà.